Odino Bin con Difesa TVB. Sono qui con il dottor Corazzina, esperto in viticoltura, autore di testi importanti che trattano appunto la materia. Siamo su una tesi in quella di Arcade, laddove dopo la grandinata disastrosa del 25 maggio dello scorso anno sono state impostate diverse tipologie di potatura. Nella prima tesi che stiamo vedendo non è stato effettuato nessun intervento in verde e qui adesso Enzo commenta tu i risultati di quello che stiamo vedendo. Il risultato è stato che i tralci che sono stati stesi, i nuovi capi a frutto, evidenziano le ferite dell'anno scorso quindi in qualche modo confermano i danni precedenti e dimostrano in generale minor fertilità cioè minor numero di grappoli per gemma lasciata con la presenza anche di qualche gemma cieca cioè che non ha germogliato. Quindi dal punto di vista produttivo questa tesi l'anno successivo si manifesta con produzione leggermente inferiore. I grappoli li vedete bene esposti comunque c'è stato qualche problema di peronospora che ha attaccato soprattutto nella parte più coperta con maggiore vegetazione però in generale la produzione c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.